ciao ragazzi allora intanto sono qui in compagnia di questo bellissimo cucciolone del quale vi avevo già parlato i giorni scorsi veramente un gigantone diventato oltre a essere subito super coccolone c'è qualcuno che se lo vorrebbe comprare ma io lo voglio tenere qua non molto lontano dalla mia zona perché anche se non lo utilizzerò per la mia selezione però è molto affettuoso e di conseguenza mi sono un po innamorato di questo cagnone allora non so se avete visto che vi ho pubblicato quel quel video di quei due cani superguardiani che ho dato a paolo questa è già la seconda coppia che li fornisco e questi giorni che ero lui da lui a passare il capodanno mi ha manifestato più di una volta la sua gratitudine per averlo protetto da quella che era la sua grande paura anche per la professione che lui esercita molto delicata fa il magistrato e presidente del tribunale e ha sempre trattato dei temi un po delicati me lo diceva solo l'altro giorno che le ritorsioni potrebbero essere molto più semplici di cosa uno si può immaginare sempre dietro l'angolo specialmente anche se lui è armato spesso deve lasciare la famiglia e di conseguenza i cani sono quelli che si occupano della sicurezza di quella proprietà di la verità questa è la seconda coppia di cani che gli do quindi sarebbe da fare questa constatazione che ho centrato l'obiettivo per la seconda volta ma come avete visto un po che io poi li ho cancellati ogni volta che metto cani super validi un po le persone che sono gelose perché cani così se li sognano solo altri perché li vedono così efficaci e quindi si immagino quanti problemi potrebbero avere con questi animali perché loro non lo sanno che poi col padrone sono come vedete sto cucciolone altri che non si immaginano e non vogliono capire che il percorso cinofilo che fa la differenza con diciamo con il cane che adottiamo e con i risultati che riusciamo poi ad ottenerne e allora ci sono sempre commenti di entusiasmo e altri di persone che ovviamente non iniziamo già con le lavate di faccia perché noi qui vedi tu mi fai fare tutto un filmato e allora un po chi sono gelosi per questi cani che li hanno sempre sognati non li hanno mai visti un pochi magari abito in appartamento vengono per commentare solo per rompermi le palle e mi fanno un grosso favore così io li tolgo subito di mezzo perché la mia pagina è a disposizione di tutti io do l'informazione gratuite però ovviamente chi viene sulla mia pagina per rompermi le palle ecco il minimo che posso fare visto che un follower a me costa meno di 10 centesimi e eliminarlo per sempre e cercarne altri che invece la pensino come la penso io però il tema di oggi come avete visto nel titolo e percorsi facili e percorsi difficili per potersi difendere in modo ideale con cane a guardia cosa intendo con questo intendo che questi risultati che avete visto nei in quel filmato che ho fatto i cani di paolo che sono proprio specifici per la sicurezza familiare avete visto tra l'altro sono cani che non hanno neanche tre anni neanche il maschio non ancora tre anni ma sono già molto molto efficaci c'è da dire che paolo lui mi ascolta sempre i minimi dettagli di dicessi di prendere qualsiasi provvedimento visto che ha grandi interessi di ottenere questa protezione lui lo prende i risultati ho dato quattro cani a lui e li abbiamo sempre ottenuti alla grande cosa intendo io per percorsi facili e percorsi difficili intendo il fatto che la maggior parte delle persone che mi interpella immagino io spesso che lo faccia perché vuole cani che possano metterli al sicuro e non è in grado di trovarseli da soli perché io che mi faccio i cani da guardia non ho bisogno di andare da altri qual è però l'atteggiamento che hanno le persone quando si rivolgono a me vabbè a parte quelli che tanto così per parlare mi dicono che forse un giorno avranno una casa e vorrebbero che adesso parlassimo di quei cani che eventualmente loro potrebbero mettere in quella casa che forse avranno questo con me non è possibile chiamatemi solo se avete già la casa se siete già in casa e se siete disponibili a ad adottare i cani entro massimo una settimana 10 giorni perché sennò quel tempo li a me serve per i miei studi per quelli preparare i cani per quelli che li vogliono subito insomma fare la mia vita da cinofero però a parte questa cosa quando le persone si rivolgono a me parlando di percorsi scelgono sempre il percorso più difficile per ottenere risultati voi immaginatevi vengono da me e la cosa a volte fanno anche tanti chilometri il percorso più facile quale sarebbe sarebbe quello di scegliere i cani che in base a tutte le cose che mi raccontano magari mi ha mandato le fotografie mi hanno spiegato come la loro situazione se hanno già altri cani se hanno bambini se sono piccoli grandi mi ha fatto vedere come ubicata la casa se passano molte persone se ne passano poche se i cani rimangono per dire soli durante la giornata oppure se qualcuno a casa c'è tutti questi elementi sono fondamentali per me nello scegliere i cani che possano portarci nel modo più rapido possibile ai risultati che in teoria tutti vorremmo e beh vi sembrerà impossibile ma le persone scelgono sempre il percorso più difficile cioè le persone vengono qui io gli consiglio due o tre cani magari in quella situazione gli servono maschi e loro vogliono femmine gli servono cuccioloni e loro vogliono cuccioli oppure addirittura li hanno visti tutti ma uno dei familiari si innamora di un cane e io posso scegliere due strade o non vendo loro un cane a volte lo faccio oppure vendo loro un cane e li induco a fare questo errore che vogliono fare loro che tra l'altro poi non riverseranno su di me per poi venirmi poi a chiedere di far qualcosa per rimediare la situazione la cosa più che mi accade più spesso è che quando partono io dico loro partite con un maschio partiti con un maschio magari già un pochino più grande imparate la cinofilia che vi serve per poterlo gestire bene io vi seguirò fate un percorso che vi farà già partire col piede giusto dopodiché avvicineremo una femmina ecco maggior parte di queste persone se ad esempio hanno già hanno solo sempre avuto femmine oppure hanno già una femmina e non vogliono aver problemi fra maschio femmina oppure se un qualsiasi familiare un qualsiasi parente con quelli quelli con i quali hanno passato il capodanno adesso le hanno incontrate a natale o piuttosto vanno a giocare a bocce si trovano al bar gli ha detto meglio la femmina che il maschio molte di queste persone vengono da me riconoscono la mia professionalità mi pagano mi danno ciò che io chiedo per i cani a patto che io gli accontenti in quella che la loro scelta io quando gli accontento nella loro scelta se non corrispondo alla mia mi accorgo che loro stanno facendo il percorso più difficile il percorso più tortuoso il percorso che ci farà faticare di più in assoluto ad ottenere i risultati qual è invece il percorso più facile è quello di comportarsi con me come ci si comporta nei confronti del chirurgo come vi ho detto altre volte nei confronti di un meccanico nei confronti dell'idraulico nei confronti di un professionista si decide se affidarsi a quel professionista dopodiché si lascia fare al professionista quello che lui immagina che sia il modo come dire migliore ma anche più breve più rapido per ottenere i risultati sembra un discorso assolutamente logico sembra una cosa che tutti la dovrebbero capire perché spendete i vostri soldi io l'incasso siete voi che li spendete ma almeno il 50 per cento ma non per non dire più del 50 per cento delle volte siete voi e fatte e accettate solo il percorso che avete già in testa e spesso è il percorso più difficile che vi farà tardare nei vostri risultati vi farà faticare a volte crea queste conflittualità poi con me perché dimenticate facilmente ciò che io avevo detto all'inizio una volta soddisfatto quello che la parte visiva del cucciolo accontentato il figlio accontentato la moglie fatto come vi ha detto il panettiere dopodiché siamo noi io e voi a dover risolvere poi questo problema e nel panettiere nel figlio nessuno si occuperanno poi di farvi funzionare il cane voi verrete poi da me e dite poi possibile che quegli altri cani funzionano a meno e non avete valutato un sacco di cose quindi questo filmato visto che siamo a inizio anno oltre a aver lo scopo di farti vedere vedere questo testone qua che io mi sono già innamorato di lui perché un patatone grosso no che tanto grosso quanto un bravo ecco che siamo spariti dietro il suo testone all'obiettivo di farvi ragionare su questo se volete fare da solo fatelo se volete andare da altri ma nel momento in cui scegliete me dovete finire la mail cane ve lo do io perché se noi ci andiamo a inguaiare tutti bene vi ringrazio tanto di avermi ascoltato fino a questo punto vi invito ad andarvi a scaricare a 0 99 meno di un euro il libro perché vi aiuterà a capire molti dei miei discorsi bene tanti saluti a presto ciao